Fornire alle imprese il know-how, i metodi e gli approcci per gestire la trasformazione continua dei modelli di business. In uno scenario caratterizzato da tecnologie pervasive, rischi sistemici, processi di fusione e acquisizione, l'Advisory di KPMG rappresenta una infrastruttura di competenze manageriali per la competitività delle imprese. L'offerta di KPMG Advisory è ampia, multidisciplinare e integrata. Si va dai servizi di Deal Advisory per le scelte strategiche di M&A o di ristrutturazione aziendale a quelli di Management Consulting per la ricerca delle migliori soluzioni organizzative e tecnologiche, fino a Risk Consulting, ovvero modelli integrati per prevenire i rischi aziendali e tecnologici. Oggi, con più di 1.500 professionisti, 70 partner e ricavi pari a oltre 270 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo medio di circa il 5% negli ultimi 5 anni, l'Advisory di KPMG è una delle realtà più importanti nel mondo della consulenza direzionale d'impresa. Grazie 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 Grazie